mister dopo l'importante vittoria contro sonan che oggi arrivano tre punti importantissimi guadagnati contro una squadra pericolosa e compatta cioè l'arconatese avete giocato discretamente difeso bene sofferto poco come l'hai vista oggi è un aperto difficile lo perché potrà una squadra forte terza in classifica quindi non a caso è una partita complicata però l'abbiamo interpretata bene con l'atteggiamento giusto ho ritrovato il mio bus a porto l'avevo già ritrovato domenica scorsa magari non dal punto di vista qualità del gioco perché era difficile trovarlo domenica scorsa a vista le condizioni nel campo e tutto quanto però l'avevo ritrovato da uno spirito oggi l'abbiamo riproposto e penso che abbiamo vinto una partita immediatamente sono veramente contento perché dopo il periodo difficile ci siamo riprenditi siamo scollati do solo alcune paure alcune così titubanze che abbiamo accumulato adesso penso che ci aspetta un finale stagione importante lo sappiamo e continuiamo così che siamo stata giusta